Il Consiglio di Stato, supremo organo della giustizia amministrativa, ha respinto il ricorso del Perugia in merito all'ammissione dell'Ecco in Serie B. È confermato quindi che i Lombardi giocheranno nella cadetteria nel 2023-24. Mancano ancora le sentenze in merito alla situazione di Brescia e Regina, ma i destini sembrano delineati. Niente da fare per i calabresi, club di Cellino ripescato in B. Come è noto, l'iniziale esclusione dell'Ecco era scaturita dal mancato rispetto dei termini perentori per l'indicazione dello stadio di gioco. Circostanza attenuata sia dal Tribunale regionale che dal Consiglio di Stato. Entrambi, infatti, hanno decretato che l'Ecco avrebbe avuto poco tempo per rispettare i termini, avendo disputato i play-off nella finalissima contro il Foggia fino al 18 giugno. In sostanza, il mancato spostamento dei termini per l'iscrizione, nonostante il cambio del calendario, avrebbe creato una condizione di inesigibilità dei requisiti, visti i tempi decisamente accorciati. L'esordio dell'Ecco sarà dunque quello di domenica, proprio allo Stato Euganeo di Padova contro il Catanzaro. Si attendono, come detto, gli esiti per quanto riguarda la questione relativa all'esclusione della regina in favore del Brescia, ma viste le premesse, come detto, è piuttosto probabile che la squadra di Cellino toni presto in cadetteria.